Come ho promesso adesso vi faccio vedere qualche esercizio per cominciare la riabilitazione post operatoria e ti dico all'inizio saremo molto basici perché dobbiamo stare attenti considerando che i legamenti sono ancora fragili e la struttura del quadricipile ancora non è abbastanza forte quindi dobbiamo partire molto piano e se ci sono degli esercizi che io dimostro che non riesci a fare non ti preoccupare a farli con una minor tensione anzi avvisami e mi dici questo riesco a farlo e questo non ci riesco. Allora primo esercizio proprio base cominciamo ci mettiamo a terra con la gamba di interesse andiamo a tenerla distesa e l'altra gamba la teniamo piegata da questa posizione possiamo metterci anche sui gommi di questo modo e andiamo a sollevare la gamba quindi molto lentamente e andiamo a fare due secondi in salita e due secondi in discesa manteniamo questo movimento cerchiamo di essere costanti e il piede lo teniamo a martello quindi non pesa la punta a martello scendi sfiori terra e risali il nostro scopo è quello di creare una tensione continua sul quadricipile e andiamo a continuare questo esercizio per almeno a 15 20 volte